Buongiorno, io sono D'Amato, la mia azienda si trova a Termini Merese, contrada a Bonfornello, siamo in Sicilia, è una mia passione l'agricoltura, infatti mi sono preso una laurea in agraria e ho veramente passione nella campagna, ci credo, è sacrificio, però se uno lavora dà ottimi risultati. Come concimazione appunto usiamo i prodotti T-Mac, grazie all'ausilio del dottore Tumbarello che abbiamo conosciuto circa 15 anni fa, la mia azienda ha preso uno sviluppo enorme anche di qualità e quantità e siamo riusciti ad andare avanti con i nostri prodotti che ci hanno dato dei risultati favolosi. Un concime che ci ha dato su tutte le tipologie di cultura è stato il 9-14-9 che è un concime di base che diamo sotto alle piante in cui nei nostri terreni che sono di media impasto sia generalmente anche a salbioso si trova abbastanza bene il rapporto foscolato del potassio e naturalmente quando facciamo i trattamenti con cautela per rispetto sia dell'ambiente anche della merce che si porta al mercato, i prodotti che mettiamo aiuto alla pianta come il Vita, il GZ, il Magical, il Max Fruit che è importante per l'allegaggione ottimi e infatti si vede anche il risultato che abbiamo avuto in questi 20 anni di attività agricola. Mi appassiona tutto, seminare una pianta oppure trapiantarla e poi vederla andare a maturazione, alla raccolta e alla fine è un orgoglio fare un'ottima qualità e un'ottima merce. Il brutto dell'agricoltura è che come in tutti i campi ci sono sempre difficoltà verso le climatiche che ci rendono un po' dura la nostra vita però il bello dell'agricoltura è questo, vedere una pianta come un figlio nasce, cresce, si sviluppa e poi vai alla raccolta, alla maturazione. Grazie per la visione!